A queste condizioni noi non ci stiamo perché il nostro obiettivo è quello di lavorare soprattutto nell'interesse dei giovani, delle nuove generazioni, perché questo territorio ha potenzialità eccezionali di sviluppo e noi non vogliamo sprecare queste risorse. Sono passati quattro anni dalla morte di Lia di Francia e venerdì 30 settembre il COAS, Coordinamento Associazioni Comprensorio Flegreo Giulianese, ha organizzato presso la Chiesa della Madonna Assunta alla Darsena di Pozzuoli una messa in suffraggio per la sua anima e per l'anima di tutte le vittime del disastro ambientale che da tempo incombe sul territorio. Subito dopo è partita verso Piazza della Repubblica una fiaccolata con lo scopo di sollecitare provvedimenti immediati e duraturi per ripristinare la legalità e assicurare a tutti i cittadini il diritto di avere un Paese in cui salute ed ambiente siano delle priorità. Una fiaccolata dal titolo Abbiamo perso la pazienza. Abbiamo perso la pazienza ma non ci rassegniamo chiaramente. Abbiamo perso la pazienza perché siamo stufi di ascoltare solamente annunci, approvazione di leggi e costanziamenti che poi non vengono utilizzate a distanza di anni. Per cui se i livelli istituzionali non danno delle risposte come non hanno dato le risposte in tutti questi anni siamo stati costretti come coordinamento delle associazioni del comprensorio flegreo giuglianese a rivolgerci alla Procura della Repubblica e ad annunciare il sindaco di Napoli in quanto sindaco della città metropolitana e il governatore della Campania per disastro ambientale e per omissione di atti d'ufficio in quanto è assurdo che una risorsa come il mare che dovrebbe rappresentare veramente un'occasione di sviluppo, di occupazione per quest'area viene inquinata da decenni dal collettore borbonico a Via Napoli, da liquami che sversano a mare in caso di pioggia viene avvelenato il nostro mare dal canale abruccese e dall'alvio dei Camaldoli c'è un impianto per la pulizia del collettore che è costato milioni e alla fine è tutto bloccato. Una fiaccolata per chiedere interventi urgenti in materia di bonifica e senza la costruzione di nuove discariche di inquinamento del mare per richiedere l'impiego dei fondi stanziati per la Campania nel 2014 e ancora non utilizzati e per dei servizi sanitari più efficienti. C'è grande partecipazione soprattutto anche di persone molto giovani, di bambini quasi. Sì, perché in effetti noi questa fiaccolata si apre proprio con lo striscione, giù le mani dal nostro futuro perché tutto il nostro lavoro chiaramente va nella direzione di creare occasioni proprio per le nuove generazioni. Il COAS inoltre non ha dimenticato di ribadire l'importanza di una corretta valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale e delle risorse del territorio affinché non manchino occasioni di sviluppo e occupazione ed un futuro migliore per le nuove generazioni. E principalmente ai giovani la cui presenza si è fatta sentire infatti che la fiaccolata è stata rivolta.